Amici buonasera dove andiamo ve lo dico subito andiamo ai mercatini di Natale a Castelfoncione adesso andiamo a fare il check in per via del covid siamo in compagnia qui di Guido il bappo dell'arratura adesso si sta facendo un bappo con un buon bruvet siamo qui ai mercatini di Natale hai qualche cosa da dire signor Guido? Guarda è la prima volta che vengo però ho fatto circa 40 anni fa il portalettere qua e quindi conosci tutto conosco le vie però oggi è meraviglioso veramente si fa senza andare nel Trentino è molto interessante quindi si può invitare altra gente per l'anno prossimo ma non è che delle fotografie perché lei è bella no, non è mai buon anno non è buon anno non è buon anno non è buon anno si sta scaldando questo è tutto bene non è buon anno fammi vedere se vuoi dire eh vada ciao è freddo ancora due minuti due minuti cinque minuti le portafazziste beh intanto aspetta dai due minuti ti ho visto il signore dove abita? e dov'è lei signore? il signore sono in Castelconzo ah bene bene è Ferrari è la signora è Ferrari bravo ah la signora è mia voce ah bene anche lei di Castelconzo si chiama coi però ci può anche cambiare ma di tutto non me conosce chi chiama eh? no chi sei? ah ma Zanzareno ti portavo sul pulmino cosa stai facendo? ti sto intervistando non metterli sul giornale no sul giornale no non carta stampata ormai è superata basta io mi sei avanti ascolti lei tanto che aspetta vuole dire qualche cosa? tanto che aspetta lei allora mi ripeto ancora questi mercatini sono validi come oggi ci sono sul trentino questo è meraviglioso oggi è la prima volta che vengo però effettivamente merito di essere osservato in ogni in ogni suo ambiente bravo anche perché qui qui non c'è il freddo gelido che c'è a Merano no quindi si può bere il vin brulee anche meno caldo meno bollente non c'è viene dalla bassa a Casalasca dalla bassa a Casalasca Casal Maggiore via Lombardia 24 no? è venuto fino a Casal Maggiore? no a Castel Ponzone a Castel Ponzone bravo siccome c'è c'è mia nuora che ha l'esposizione qua a Castel Ponzone bravo 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 e quindi la nuora questo è mia nuora con tutte e loro mi chiesto se venivano a fare una visita e siamo venuti qua siamo appena arrivati e siamo molto contenti perché c'è molta gente c'è il pieno proprio un bel posto c'è tanta roba molto bene grazie grazie a lei grazie amici il video termina qui spero che i mercatini natalizi del borgo di Castel Ponzone in provincia di Cremona siano stati di vostro gradimento e ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao